Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Amici, addio, noi ci dobbiamo abbracciare. Ma, ehi, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio, addio. La luna e il noccio nella casa blu torneranno per giocare con voi. Qui con voi, qui con voi. Ciao ciao luna! Ciao ciao! Ciao ragazzi! Che cazzo succede qua? Aspetta, però ho dimenticato la scatola. La scatola? Io lo farei lo stesso comunque. No, scherzato. Aspetta, mi larga la streamer. La scatola è nella scatola. Io lo vando a me iniziare a mentire, perché ho fatto già in giro. Che cazzo colpito. Qua sawta? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo qualcosa di un'imposta? Che cazzo con me? 5 anni fa. Occhio? Ma ti posso dire Non ho aspettato Scusate Scusate che ho fatto Questa è la tua 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 Alla gioccio per Gucci 25esimo anniversario Anche quello Perché la foto regionale di Jolene l'abbiamo trovata Ma dietro c'era Se non sbaglio Non c'era quella foto lì Infatti No, non è quella lì Se per me assomiglia Isoca Specialmente per le spalle E i pantaloncini Anche la foto sembra La tipica di Isoca Ma con le braccia piegate Adesso esce un cane da qua Ok Sarebbe stato incredibile Mi stai sentendo a me È arrivato Mi ha sentito proprio Oh Pezzo di merda Muori 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 Ok Ma vaffanculo Non sono una player toxic Vai Vabbè Caprio Dai Vada la mamma Dai Vada la mamma Vada la mamma Caprio Dai Vada la mamma Caprio Dai Vai Senza scivolo Non credo Proviamo Mi metto i calzini Ti scivolo Mi metto i calzini Ti scivolo Far ballo Grazie mille per il terzo mese Grazie Tanta Mette i calzini Ti scivolo Mette i calzini Ti scivolo Ok Lo fate Lo fate Mi piace Dai Mi piace Mi piace Oggi questo cosa Cosa è Non mi aspettate Ma è un cazzo da me Grazie Anonymous per 100 bits Ringrazio Ho alzato il culo Raga Ma così sono capaci tutti Ma che cazzo sta a dio Oh No, cercavo di capire Volevo capire se tipo quelle Aspetta, no, non c'è da dire Volevo capire se Volevo capire se esprudevano tutte Abbiamo la versione Furry, quindi Qua, piccolo recapino Piccolo recapino con la versione Furry Poi abbiamo la versione Jojo E abbiamo la versione Comic Questa è la prima versione e questa è la seconda versione Tutte robe incredibili Mi è piaciuto veramente tantissimo Mi è piaciuto tantissimo Io il pago gente per fare cose Questa è quella che viene chiamata posizione della mucca del gatto Anche questa serve per scaldare i muscoli Bravo, bravo, questo non cazzo, bravo Mi è piaciuto Dopodiché ci stiriamo col petto al suono nella posizione del bambino Qui per esempio ci mettiamo in ginocchio E Vespa per arrampicarsi rinforza le zampe posteriori È importante Vediamo Dai, dai Guarda che vergogna che fa Viglio là Guardate Viglio che è vergognoso Ma fa un culo Viglio Pezzo di merda Voglio fare un'unica cosa Un'ultimissima cosa Un'ultimissima cosa Un'ultimissima dopo l'allenamento Beh Meno tette ma il cucetto è quello Meno tette Non guardate Non guardate Non guardate Raga, questo livello non era così difficile Mi aspettavo peggio da come l'avete riscritto Ok, mi conviene mettere roba via però Ho troppa roba adesso Ma non posso saperlo Oh, oddio Che c'è sto è? Oh Ce la faccio, ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio In generale è vero Ma in questo caso è un meme Di dubbio gusto è vero Ma è risolto No, aspetta È rivolto anche a streamer maschi Vabbè Non sembra che sia Io non conosco sto meme Se qualcuno entra di Ah, è il tank che fino a fa Cioè Vabbè Comunque Comunque andiamo avanti Qua andiamo avanti Andiamo avanti Dicevo Che sennò Già inizio ad ingazzarmi qua Eh Andiamo avanti Allora Ok Allora Con molta calma Ma che Ma non Ma cosa fa Una tripla capriola A caso Da solo Ma cosa Non capisco Non capisco Ma ha fatto Una capriola A caso Ha fatto Una capriola A caso Ha fatto Una capriola Ha fatto Una capriola A caso A caso